Un Avezzano a caccia di certezze ospita la sorpresa Montegiorgio al terzo posto in solitaria dopo le vittorie rimediate contro Yesina e Vasto Girardi. Per dare seguito ai primi tre punti esterni sul campo del Porto Sant'Elpidio, Liguori conferma l'undici vittorioso nelle Marche, riproponendo Puglielli assieme a Quatrana e Cancelli a supporto di Gaeta nel 4-2-3-1 a trazione offensiva. Baldassarri senza lo squalificato Titone ripropone il consueto 4-3-3 con la novità Marchionni in avanti assistito da Albanese e Nasic. Il primo squillo è di marca biancoverde, al sesto Puglielli si libera Erma il destro, conclusione centrale facile preda di Mercorelli. Al diciassettesimo replicano i marchigiani ma la conclusione dell'ex Pineto Mariani termina lontanissima dal bersaglio. Due giri di lancetta e altra chance Avezzano, Quatrana pennella da piazzato la palla sbuca davanti a Mercorelli che salta ai suoi riflessi e spedisce in out, 60 secondi e l'Avezzano la sblocca, azione meravigliosa sull'asse Quatrana-Cancelli, palla al centro per l'inserimento di Puglielli che gonfia la rete e fa 1-0, primo gol in campionato per il 10 di casa. E Avezzano avanti, neanche il tempo di godersi il vantaggio. Il Montegiorgio pareggia alla mezz'ora, Di Gian Felice ferma un lanciatissimo Marchionni al limite dell'aria, il signor Fichera di Milano assegna la punizione dal limite ma poi cambia idea decretando la massima punizione. Tra le proteste dei biancoverdi, esecuzione perfetta di Marchionni che fa 1-1 secondo centro stagionale per l'attaccante Rosso-Blu e parità ristabilita. Al 36esimo ancora Marchigiani pericolosi con Mariani che trova la pronta respinta di Fanti. In chiusura di tempo si fa rivedere l'Avezzano ma la parabola di Quatrana non scende e la palla si spegne sul fondo. In avvio di ripresa subito pericoloso il Montegiorgio, al sesto volè di Mariani dal limite, palla che c'entra in pieno il palo a Fanti battuto. Due minuti più tardi, altra occasione per gli ospiti ma il diagonale di Albanese trova i pugni di Fanti. Il Montegiorgio alza i giri e schiaccia i marzicani, Liguori corre ai ripari inserendo Franchi per Quatrana. I biancoverdi hanno un sussulto al 13esimo con Gaeta che si libera e va al tiro, è solo il legno a negare il vantaggio all'Avezzano. Al 14esimo torna in avanti il Montegiorgio con Mariani che libera Trillini che scara Bocchia e cestina l'occasione. Liguori gioca le carte di Hoppe, Sicari per Cancelli e Puglielli mentre Baldassarri richiama Marchionni e Lattanzi per Tempestilli e Aloisi. Al 36esimo è quest'ultimo a provare ad impensierire Fanti ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete. Al 42esimo altro squillo di Aloisi che libera il tiro, Fanti risponde presente. Sui titoli di coda del match torna a farsi vedere l'Avezzano con Sicari che raccoglie il pallone dal limite, tiro di prima intenzione che termina lontano dallo specchio. Gli ultimi quattro di recupero sanciscono il secondo risultato utile di fila per l'Avezzano che sale a quota 12 a meno 3 dalla zona salvezza. Altro punticino per il Montegiorgio che scende al quarto posto ma continua a sognare. Allora mister, le rifaccio la domanda. Un punto guadagnato o due punti persi? Allora eravamo partiti, quando siamo andati in vantaggio pensavo che sono anche, non dico sicuro ma quasi che senza quell'episodio magari avremmo visto un'altra partita. Però gli episodi fanno parte del gioco, l'abbiamo accettato e adesso a mente fredda sono contento anche del punto perché comunque abbiamo mostro la classifica, ci stiamo avvicinando alla quota che ci permette di lavorare con più tranquillità in settimana. Quindi mi tengo il punto stretto contro un avversario del genere. L'episodio del rigore l'avete rivisto? L'abbiamo rivisto, il fallo è cominciato fuori all'aria, l'intervento è stato veramente molto, ma penso mezzo metro abbondante prima della linea. Però gli ho detto, io sono convinto che l'arbitro è come l'allenatore e come il calciatore. Può sbagliare, lo fa, io posso sbagliare la formazione, il calciatore sbaglia un rigore, ci sta tutto, va benissimo, accettiamo qualsiasi decisione. Mister, faccio anche a lei la stessa domanda che ho fatto a Liguori. Un punto guadagnato o due punti persi? Ma, come ho detto ai tuoi colleghi, alla fine prendiamo quello che il campo ci ha dato. Io ho detto anche che probabilmente se era un incontro di Pugilato avremmo vinto ai punti, perché nel secondo tempo abbiamo fatto una partita, penso, eccezionale sotto tutti i punti di vista. Ho sentito dire che l'Avezzano ha tenuto la palla, cioè che ha fatto una buona partita per 70 minuti. Io dico che la mia l'ha fatta per 95-96, perché nel secondo tempo abbiamo avuto tante di quelle occasioni per chiuderla. Non ci siamo riusciti, però ripeto, il campo ci ha dato un punto, portiamo via quello che il destino ci ha dato.